Signore, posso vedere la sua patente? Aspetti, perché? Sì, ho la carta d'identità. No, 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 non stava guidando lui. Non ho chiesto chi guidava, ho chiesto un suo documento. Già, perché? Questo non ha alcun senso. Prego. Non dargli nessun documento, non hai fatto niente di sbagliato. Ehi, piccola, è tutto ok, andiamo. Quando si verifica un incidente, abbiamo tutto il diritto di richiedere... Stravvisate, come no. Signora, il... Tutto a posto, Ryan? Sì, tutto a posto. Sistemi quel faro e lo specchietto. Grazie, agente.